rivoluzione intesa come rottura ma anche capacità di governo è incentrata su questa prerogativa l'azione politica del sindaco di napoli luigi de magistris che ad agropoli ha presentato de ma la democrazia autonoma il movimento politico che fa partecipare le persone all'attività amministrativa de magistris ha confermato la partecipazione alle prossime elezioni europee facendo squadra in particolare con podemos partito politico spagnolo di sinistra per un'europa diversa che sia distante da quella attuale ma anche da quella che propone salvini le penne orban per de magistris l'europa deve rappresentare le città i territori i diritti i popoli la giustizia sociale l'uguaglianza la solidarietà per vincere bisogna mettere insieme settori più disparati della società i rapporti sono devo dire personali ottimi sia con gli annis varufagis ma devo dire anche con melanchon con podemos squadra colau stiamo provando a mettere insieme una lista che abbia rapporti ottimi con tutti questi movimenti europei che vogliono costruire un'europa diversa c'è l'europa delle città l'europa dei territori l'europa dei diritti dei popoli della giustizia sociale dell'uguaglianza della solidarietà direi per quello che sta accadendo in questi giorni e devo dire c'è molto molto entusiasmo soprattutto con alcuni movimenti come podemos che vede molte analogie con quello che stiamo facendo noi a napoli in quanto alle prossime regionali de magistris porterà il modello napoli che grazie alla sua amministrazione è diventata la prima città d'italia per crescita culturale turistica e in riferimento all'attuale governatore vincenzo de luca ha detto più che fare propaganda dovrebbe rendicontare de luca più che fare propaganda dovrebbe presentarsi con un rendiconto ormai fra un anno si va a votare sanità siamo peggio di prima trasporti non si vede niente infrastrutture non ne parliamo proprio ambiente rifiuti non è stato fatto sostanzialmente nulla e potrei continuare quindi credo che invece quando ti presenti con cose che hai fatto soprattutto governando senza un euro come abbiamo fatto noi a napoli ed è la prima città d'italia ormai da tre anni per crescita culturale turistica vuol dire immaginiamo un po' in regione campagna dove ci sono i soldi se li comincia a spendere per i territori e non per fare clientele allora veramente la campania può essere il punto con cui fare la lotta anche le discriminazioni territoriali del nostro paese